che facessi tu per la fatica, che fatica facevi? un pescatore, quanti anni fa ha cominciato il pescatore? era quando avevo 10 anni, già cominciato e ho preso il papà, prima di quando ero giovane pescavano tutti quanti? allora, ma gestivano 80 pescatori, è una cooperativa, questa è una cooperativa è una cooperativa, ieri ho pagato i verni 120 milioni, certe volte mi arriva a mano, arrivai con pochi contributi e me le avevo messo andò a questo paese, ci mettono per il bett che i pescatori erano amici una con un'altra erano poi, fatti di questo erano amici, quando uno spiglava una... mi dicevo, vieni un po' pescatori, se stai arrivando ai primi ci stai avendo un pescatore, poi sono andato a fare una coppia di marco grosse e come? non c'è stia? è un po' grosse e chi l'ha, quando è nascita la pesca meccanica? ma amare, dove c'è una uzzarilla Quest'anno noi a Gianna, per gli avrei due, per gli calamari. I dicimi due. A 150 metri, con Peppe e con il nonna, i resti trovano male, faccia a faccia. Ma la maggior parte, sempre io, quando venivano i pesci, allora i pesci, a rendicci, quando venivano i pesci, quando non venivano i pesci, a dove? Poi c'è l'ambra. Un mancanino, perché facciano cose, il legno è passato qui. Che giusto cavallo. Che giusto cavallo. Come si chiama? Un mancanino. Un mancanino? Puggetto qua, a parte, così. Non fa curato. Noi cosa, così. E ci vuoi usare.